Radio Bruno Con Fra Michele da Palermo per aiutare le mense francescane, quella di Palermo è compresa, 45588. Sì, grazie a questa catena, a questa rete del 45588 con una vostra donazione possiamo assicurare un pasto caldo a questi nostri amici meno fortunati di noi. Nella nostra mense ogni giorno distribuiamo pasti per circa 90 persone e operazione pane è molto importante per noi perché a noi servono soldi per avere gli alimenti, per aiutare queste persone. 45588, 45588, perché se i nostri amici poveri bagiano, siamo felici anche noi, che magari abbiamo di più ed è giusto di vivere con chi ha, li vedo, perché siamo tutti una sola cosa a questo mondo, vero? Grazie Svirulino. Prego, prego, ciao. Come dire, il male, che sia la malattia, la povertà, la miseria, quello che è, è serio, quello lavora tutti i giorni, non va mai in vacanza, non fa sciopero e allora davanti al male ci devi mettere tutta, a Roma diciamo la tigna, che non è la malattia dei gatti, la cuociutaggine. Dice tu non molli mai e non molliamo neanche noi, quindi non è solo oggi, in questi giorni, e ci mancherebbe essere a fianco all'Antoniano, 45588, tutto quello che vuoi, ma non è solo oggi, è sempre. Cioè quando pensi, io l'ho fatto qualche anno fa, e arrivarono tantissimi messaggi appunto solidali, cioè con un euro fai mangiare una persona ragazzi, cioè... Facciamolo tutti. Dai, sì, cioè non andrebbe neanche detto, dai, lo stiamo già facendo. Dona un pasto ora, invia un sms o chiama dal telefono di casa il 45588, Operazione Pane, 45588, dona ora.